benvenuti a bvlog il canale di barbara che segue la storia di monica storia in cui cadono cose sempre più emozionanti sì so già cosa state pensando barbara già sapeva che tutte queste cose sarebbero accadute effettivamente io so tutto quello che bisogna sapere su monica per questo motivo il mio è il vostro canale preferito il vostro canale preferito oggi vi parlerò della cosa più importante per una persona di 16 anni la fisica quantistica di economia esiste la vita su un altro pianeta la cosa più importante per una come me è l'amicizia anche per voi no il problema è che non sempre è facile essere amici di un'altra persona il giorno del ballo della scuola io mi sono arrabbiata con monica perché non mi aveva invitata che io avrei mai pensato di potermi sentire così lontana da te e ho deciso di farmi una nuova migliore amica bruno a partire da adesso la mia migliore amica sarai tu è vero che bruno non sa fare le stesse cose che io facevo con monica ma no no lascia stare meglio di no meglio di no tranquillo nessuno è perfetto a volte sembra che sia facile essere amici bruno ad esempio credo che non si sia divertito molto a fare cose da ragazze con me ma vi racconterò un segreto era così carino vedrete più avanti e lui diventeremo molto amici va bene io e bruno amici che vuol dire molto più di quello che sono riuscite a fare ricchi e monica sembravano essere fatti l'uno per l'altra e invece hanno passato tutto il tempo discutere che ne dici di preparare i ceci al forno saranno più leggeri anche più saporiti tostati al forno non so se mi convince non vi è mai successa una cosa del genere hai un amico con cui vai molto d'accordo e improvvisamente durante un compleanno o a scuola ma sì ma no su giù bianco verde beh cosa volete che vi dica è vero che vi è successo qualche volta però nonostante tutto l'amicizia è meravigliosa il che ci porta la domanda che vi piacerebbe farmi cara barbara riuscirà a far chiudere l'orto mi piacerebbe raccontarvelo però preferisco fare la misteriosa non perdetevi le avventure di monica e scoprirete la risposta lo commenteremo nel mio prossimo video ricordate bblog il canale di barbara il canale che sa di più sulla storia di monica non dimenticatevi di mettere un like e di prendervi cura dei vostri amici ok